L'accordo di integrazione. Che cos'è? L'accordo di integrazione è un patto fra lo Stato italiano e il cittadino straniero. Con l'accordo di integrazione lo Stato italiano si impegna a sostenere il processo di integrazione del cittadino straniero nella società italiana. Lo Stato italiano si impegna cioè a organizzare e fornire servizi utili all'integrazione come corsi di lingua e cultura italiana, assistenza sociale, formazione professionale ed istruzione, assistenza sanitaria. Con l'accordo di integrazione però anche il cittadino straniero si impegna a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, ad esempio conoscere la lingua italiana, conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana, dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, garantire che i propri figli vadano a scuola fino all'età dell'obbligo, pagare regolarmente le tasse e i contributi, aderire alla Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione. L'accordo di integrazione deve essere sottoscritto dagli stranieri di età superiore ai 16 anni che entrano in Italia per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di almeno un anno. Per i minori d'età compresa tra i 16 e i 18 anni l'accordo è firmato dai genitori o da chi ha la potestà genitoriale. Non devono sottoscrivere l'accordo di integrazione gli stranieri affetti da malattie o disabilità che limitano gravemente l'autosufficienza o l'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, i minori di 16 anni o i minori non accompagnati.